Musica Terzo giorno di sciopero della fame per Dino Scipioni, un paziente aquilano ricoverato da 22 giorni all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Chi controlla la qualità dei pasti si chiede il telespettatore che nell'inviare la sua denuncia ha mostrato anche alcune foto. Scipioni in sostanza denuncia la qualità dei pasti che secondo quanto da lui riferito vengono cucinati a pizzoli la mattina alle 10.30 arrivano in ospedale per essere poi serviti dice alle 13, stesse modalità per la cena. Come può essere denuncia Scipioni un passo servito dopo 4-5 ore dal confezionamento? E poi Scipioni riferisce ancora di minestre salate e pane che viene scaricato all'esterno dell'ospedale alle 7.30 per essere portato all'interno solo alle 7.30 dice Scipioni con i gatti che si aggirano nella stessa zona. Scipioni racconta anche di aver preteso di parlare con le dietiste ma dice ancora non ho ricevuto risposte convincenti, fatto sta che al terzo giorno di sciopere della fame. Ovviamente per completezza di informazione abbiamo provveduto a contattare telefonicamente anche il responsabile del servizio mensa del San Salvatore il quale non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione alla stampa sulla vicenda. Che noi riportiamo riservandoci però e riservando alla ASL se lo riterrà opportuno tutto lo spazio per fare le loro considerazioni e per esprimere la loro posizione sulla questione. Insieme di Corsa per l'Aquila è lo slogan dell'iniziativa promossa quest'anno per la prima volta dalla Guardia di Finanza dell'Aquila nell'ambito del settimo anniversario del terremoto del 2009. Con il patrocinio della regione Abruzzo, della provincia e del comune dell'Aquila le Fiamme Gialle di Coppito hanno voluto promuovere una corsa su strada non competitiva nella prospettiva di collaborare con la cittadinanza. La corsa si svilupperà sulla distanza complessiva di circa 10 chilometri ad andatura regolare e partirà dal campo sportivo della scuola con l'adesione di mille allievi in formazione e parte del personale in servizio nella Guardia di Finanza. Proseguirà lungo un percorso prestabilito e vincolante per tutti i corridori fino all'area mercatale di Piazza Darmi per poi congiungersi con la cittadinanza aquilana e terminare insieme, dopo un'ulteriore sosta a Piazza Duomo, davanti al sagrato della Basilica di San Bernardino. Il generale della Guardia di Finanza Michele Carbone spiega il senso dell'iniziativa. L'iniziativa è un'iniziativa di solidarietà. Abbiamo pensato nel settimo anniversario dell'evento sismico a seguito di quello che è successo nelle ore immediatamente dopo il terremoto. La popolazione aquilana si è riversata nel viale Fiamme Gialle e la Guardia di Finanza, la scuola ha aperto i cancelli alla popolazione offrendo latte caldo ai bambini coperte perché quella notte faceva anche freddo. A distanza di sette anni abbiamo pensato che sono i nostri allievi ad uscire dalla scuola e ad andare incontro alla popolazione aquilana attraverso questa corsa non competitiva su strada. Visibilmente soddisfatta per questa importante novità nel settimo anniversario della sisma l'assessore alla cultura del Comune dell'Aquila, Betti Leone. L'iniziativa ci è stata proposta quest'anno dalla Guardia di Finanza. È un'iniziativa della Guardia di Finanza che noi abbiamo volentieri accolto perché, come sapete, la scuola della Guardia di Finanza è diventato quasi il simbolo del post terremoto. È stata la nostra casa nei giorni più critici dopo il terremoto. Quindi che loro abbiano voluto quest'anno dare un segno alla città e chiedere alla città di marciare con loro il 6 aprile per ricordare questa vicinanza ci è sembrato un fatto molto positivo e quindi volentieri abbiamo accolto la loro proposta. Borse di studio per 79 studenti e studentesse neoloreati che frequentano la Facoltà di Economia dell'Ateneo Aquilano. 79 come le vittime del sisma che frequentavano le scuole aquilane del cratere di ogni ordine e grado. Borse di studio da 1000 euro ciascuna erogate dalla Regione Abruzzo grazie al progetto di legge del consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco. Un premio di laurea che all'inizio è nato per ricordare gli otto ragazzi morti alla casa dello studente. Poi grazie anche ai suggerimenti costruttivi di membri della minoranza abbiamo deciso di riservare un premio di laurea ai 79 ragazzi morti nel terremoto del 6 aprile del 2009. 79 ragazzi quindi della stragrande maggioranza universitari ma anche bambini delle scuole elementari, ragazzi del medio inferiore e anche ragazzi delle superiori. Sono 79 ragazzi morti quindi 79 mila euro all'anno che verranno devoluti alle 79 migliori a migliori studenti che frequentano gli stessi corsi di laurea comunque le stesse scuole di queste 79 persone che non ci sono più. Ho parlato con tutti i membri della commissione e tutti sono stati veramente entusiasti di questa idea che ho avuto e quindi ora credo che in commissione non ci dovrebbero essere problemi per l'approvazione e poi anche mettendomi in contatto con Silvio Paolucci cosa che già ho fatto cercheremo di ritrovare e ritroveremo appunto questi 79 mila euro all'anno. Il progetto di legge prevede che il bando sia riservato a studenti che hanno conseguito un voto di laurea non inferiore a 99 su 100 e in possesso di diploma di laurea conseguito non oltre l'anno precedente alla data di scadenza del bando stesso. Per la copertura di bilancio necessario si dovrà attendere una settimana. Per la copertura di un'altra parte 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 di